il testo ok è fatto qualche problema di elettronica guardate un attimino coltanto guardate che roba grandissimo chiaramente vedete questa meraviglia è tutta per voi tutta per voi guardate 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 come guardate Guardate, no, guardate Facciamo un grande applauso, facciamo Come vi avevo detto, è arrivato allo spazio Lo potete trovare su Facebook, sul gruppo del Nitro Drive Guardate un pochettino 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 Grazie a tutti.